Buongiorno, buon sabato 3 di dicembre. Ben trovati all'ultimo appuntamento settimanale con Mattino 6, la nostra quotidiana rassegna stampa. Allora, iniziamo subito dalle prime pagine dei quotidiani regionali e partiamo dalla prima del centro che questa mattina praticamente ha la stessa impostazione per tutte le quattro edizioni provinciali. Il titolo di apertura, Se questo è un uomo, ovviamente si riferisce assieme alla fotografia alla notizia di ieri di cronaca, l'omicidio che c'è stato in via Acquatorbida a Pescara. Mamma, mamma mi sta uccidendo, così ha gridato la giovane Jennifer chiedendo aiuto, mentre colui che diceva di amarla la coltellava a morte, gettando Pescara e l'Abruzzo nell'orrore. Il testimone ha raccontato che nella stanza c'era sangue dappertutto e poi la criminologa sentimento malato non è amore. Ancora, invece, per quanto riguarda la cronaca giudiziaria, ieri è terminato in Cassazione il processo Sanitopoli del Turco, confermata la condanna per induzione in debita. Ci sarà un nuovo processo d'appello, dunque, per l'ex presidente della regione Abruzzo e alcuni degli altri imputati per il processo che riguarda le tangenti nella sanità abruzzese. Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione, che ha annullato così con rinvio la condanna per del Turco, Camillo Cesarone e Lamberto IV, in relazione all'accusa più pesante, quella di associazione per delinquere. Poi vedremo più avanti nel corso della nostra rassegna di approfondire anche questa notizia. Nelle cronache di Pescara la preside blocca l'occupazione al liceo classico, mentre nel taglio basso troviamo la campagna referendaria. Oggi in silenzio per la pausa di riflessione per il voto. Ultimi appelli, tanti gli indecisi. Renzi, il sì, rimonta. Grillo, chiunque vinca, paese spaccato. Il premier chiude a Firenze la lunga maratona elettorale. Beppe Grillo è a Torino, mentre Berlusconi si presenta prestissimo negli studi di Agorà e Matteo Salvini organizza una manifestazione di protesta davanti a Palazzo Chigi. A poche ore dall'apertura delle urne, tutti i leader vanno a caccia del voto di chi non ha ancora scelto. Il risultato è totalmente aperto, scommette il presidente del Consiglio. Gli risponde a distanze il leader del Movimento 5 Stelle. L'Italia è divisa, serve un no di pancia. Vi ricordo, voto confermativo per quanto riguarda la riforma costituzionale. Non è necessario il quorum, appunto, perché è un referendum confermativo. Si vota domani dalle 7 alle 23 e poi lo spoglio ci sarà subito dopo la chiusura dei seggi. Andiamo avanti, sempre sul Quotidiano Il Centro. Per dovere di cronaca vi faccio vedere le altre prime pagine. Come vi ho detto in precedenza, l'impostazione è la medesima. Nello spazio dedicato alle cronache, a Chieti, Sindaco, Giunta e Consiglio alla politica a costi scontati. Andiamo ancora avanti. Il terremoto, invece, sulla pagina Teramana. Scuola Lucidi, lavori avanti, possibile il rientro. Il giorno 12. Andiamo a vedere anche la pagina aquilana. Fuoco alto alla villa e la gente va nel panico. Dunque queste le quattro principali notizie che troviamo sul centro. Oltre, ovviamente, alla notizia di apertura che ha avuto una risonanza anche a livello nazionale, purtroppo. Adesso cambiamo testata. Passiamo sul messaggero. Andiamo a vedere la prima dell'inserto a Bruzzo. Uccisa dall'ex per un computer. Il titolo di apertura. Pescara Jennifer Sterlecchini, di 26 anni, accoltellata da Davide Troilo durante una lite. Si erano lasciati lunedì. Lei è tornata a riprendere le sue cose. Il raptus per un tablet. Andiamo a vedere anche uno stralcio degli articoli interni nel giornale. Uccisa a coltellate. Così è morta Jennifer Sterlecchini, una ragazza di 26 anni pescarese, per mano del suo ex fidanzato. Uccisa per un tablet, almeno secondo la versione dell'assassino. Quello che sembrava l'amore della sua vita e con cui aveva convissuto per ben tre anni in una villetta bifamiliare di via Vicenza 31, traversa di via Acquatorbida nel quartiere Fontanelle, dove poco dopo le 12 si è consumato il dramma. Uccisa a coltellate senza che nessuno potesse far nulla se non udire le sue urla di disperazione e avvisare i carabinieri. Allora arriva Jennifer era già morta per terra in una pozza di sangue. Accanto a lei sul pavimento è conferita evidente al collo il suo uomo Davide Troilo, 32 anni, pescaresi, titolare di una ditta che si occupa del montaggio di ascensori, separato e con un figlio piccolo. Il 32enne è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di chirurgia con sette giorni di prognosi. Nella serata di ieri, al termine dell'interrogatorio da parte del PM di turno, Silvia Santoro, per lui è scattato l'arresto. Andiamo ancora avanti, sempre su questa notizia. Il giornale pone in risalto le ultime parole della ragazza. La mamma aiuto mi sta ammazzando, la madre di Jennifer Sterlecchini era fuori dalla villetta assieme ad una amica della ragazza ad aspettarla. Purtroppo non è potuta intervenire, non ha evitato il peggio. Andiamo avanti, la cronaca giudiziaria, ritroviamo anche qui il processo Sanitopoli in Cassazione, il PG del Turco va condannato. Qui non c'è la notizia della sentenza che invece abbiamo visto sul quotidiano Il Centro. Evidentemente il giornale ha chiuso prima la sentenza, infatti è arrivata nella tardissima serata. E dunque il messaggero pone in evidenza le parole del procuratore generale della Cassazione che riguardavano proprio il processo Sanitopoli e l'accusa nei confronti dell'ex presidente della giunta regionale Ottaviano del Turco. Poi sul Mona guida a 90 anni, schianto fatale. Per quanto riguarda ancora la cronaca nera, la routine di tutte le mattine che prevedeva il quotidiano caffè e cornetto da prendere al bar del piccolo centro commerciale ai piedi del paese è costata la vita a Salvatore Vittorio Dascanio. Andiamo di spalla adesso. Chiara, firma Easy 2017, il calendario delle ferrovie. Tiatina di 26 anni e laureanda all'annunzio porta la firma di questa ragazza, il calendario delle ferrovie dello Stato che si ispira a temi fra i quali trasparenza, innovazione, sicurezza, centralità del consumatore. Il suo progetto è stato selezionato fra i 350 pervenuti. Nel taglio basso, Chieti parto con l'infarto in corso e si salva. Ha disturbi legati alla gravidanza e per questo va in ospedale a Chieti e all'ottavo mese perciò la trattengono in osservazione. Ma mentre è ricoverata viene colta da infarto, va in arresto cardiaco e così resta per circa 30 minuti. Non c'è più battito, emergenza, per lei sembra non esserci più speranza ma continuano a defibrillarla. La donna viene fatta partorire dopo mezz'ora, un tempo lungo, lunghissimo in cui sembra essere spacciata. La donna si sveglia come se nulla fosse successo e chiede del piccolo che portava in grembo. Ogni tanto c'è anche una buona notizia per fortuna. Andiamo nel taglio alto, referendum, Calenda, Poletti e Lorenzini. Tre ministri spingono il sì, ieri le visite in Abruzzo. E sempre per quanto riguarda il referendum, fronte del no, Forza Italia e Sinistra. Pescara finale per spingere a votare contro la riforma costituzionale. Ancora, patto di stabilità sforato a Pescara, Albo Remascia. L'ex sindaco rischia, la Corte dei Conti torna a chiedere chiarimenti sui conti del comune. L'ex sindaco potrebbe essere chiamato a pagare le somme contestate. Andiamo avanti, adesso cambiamo ancora una volta testata. Passiamo a vedere la prima pagina della città quotidiana della provincia di Teramo. Uccise a coltellate dal compagno. Vedete anche qui il titolo di apertura riguarda l'omicidio di Pescara. Prima la ferisce a morte, poi tenta il suicidio. La lite furiosa è scoppiata per un tablet. E poi a centro pagina il trenino dei Prati. Isola, il parco rilancia il progetto di collegamento. Ancora il masterplan. Funivia, Silvi Gufa su Teramo. Se il capologo rinuncia, il borgo è pronto. Di spalla, Brucchi preoccupato. Un teramano su tre ha lasciato il capoluogo. Primi rientri, agibilità, un appello dagli sfollati. A Teramo la Noe Lucidi forse riapre prima di Natale. Nel taglio alto alla visita della Lorenzini, ZS e Università di Teramo. Il ministro benedice l'integrazione. Nel taglio basso, Mosciano Sant'Angelo, ponte inutile. Il PD adesso accelera. E poi troviamo il calcio Pescara, Teramo e San Nicolò. Accordo sul settore giovanile. E poi l'editoriale di Alessandro Misson, Luciano Remmagio. Il titolo si riferisce ad una notizia che abbiamo trattato anche noi nel TG6. di un presepe vivente per beneficenza a cui dovrebbero partecipare politici abruzzesi, tra cui il presidente della regione Abruzzo. Questo è lo spunto per poi una riflessione anche sulla politica regionale. Noi adesso lasciamo le prime pagine regionali. Apriamo lo spazio dedicato invece al nazionale, andando a vedere le prime dei principali quotidiani italiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Sfida finale sugli italiani all'estero. Ovviamente l'apertura è dedicata al referendum del Rio. Se vince il no, il premier da Mattarella. Grillo a Torino, paese spaccato. Chiunque prevalga Berlusconi. Temo i professionisti dei brogli. Renzi con il signente elezioni anticipate. Queste le ultime battute prima del silenzio per quanto riguarda il voto. Un clima da ricostruire. L'editoriale di Luciano Fontana. Gli impegni per il dopo voto. E poi le banche popolari. Riforma sospesa. Il caso dei rimborsi ai soci. MPS dalle obbligazioni. Raccolto un miliardo. E poi la notizia shock per quanto riguarda lo sport e la Formula 1 in particolare. il neocampione del mondo, Rosberg, lascia a 31 anni e segue il cuore. Dunque si ritira probabilmente, anzi, senza probabilmente, sicuramente all'apice della carriera. Meglio di così. Sarà difficile fare d'ora in avanti. E dunque il ritiro. Nel taglio basso, meningite all'università, vaccino per 140. Deciso il piano sanitario alla statale di Milano dopo la morte di due studentesse. Andiamo sulla Repubblica. Renzi Grillo e Rush finale. Il Premier orientato a dimettersi se vince il No. Il leader dei 5 Stelle. Anche la sconfitta ci darà forza. Per Boschi arriva il giorno del giudizio. A destra e nel PD le due fronde. lo spettro della scissione. Vedete anche qui ritroviamo un editoriale sempre dedicato al referendum firmato da Mario Calabrese. Come riunire un paese avvelenato. Sicuramente questo referendum ha spaccato in due l'opinione pubblica italiana. E poi ancora a centropagina le banche popolari e stop la riforma alla consulta. E invece per lo sport anche qui la fotografia di Nico Rosberg. A 31 anni lascia il campione della Formula 1. Rosberg ritirarsi da numero 1. Aveva un sogno e l'ho realizzato. Andiamo adesso sulla stampa. Referendum assedio a Renzi. Gli ultimi comizi da Lema e Salvini bisogna vigilare i suoi voti all'estero. La grande paura dell'Unione Europea. La vittoria del no. Il Premier in gioco c'è il nostro futuro. Grillo paese spaccato. Berlusconi evoca Brogli. A centropagina vedete anche qui il sorpasso di Rosberg. Ritiro da campione. L'annuncio del pilota dopo la vittoria del suo primo titolo mondiale. E anche Bolt smette. Dunque ci sono adi eccellenti nello sport. Andiamo ancora avanti. Il messaggero. L'ultimo duello sul voto all'estero. Referendum Renzi chiude a Firenze. Ci giochiamo 20 anni. Partita aperta e si può vincere. Grillo. Italia spaccata. Anche la sconfitta ci darebbe forza. Ricorsi sulle schede oltre confine. E poi il focus. Nuovo senato. Federalismo e quorum. Una guida alle ragioni del sì e del no. Guida che troviamo sul messaggero. Ma un po' su tutti i quotidiani italiani. Invece dagli esteri. Verso l'Eliseo. Valse il catalano freddo. Che sogna il trono di Francia. Dopo la rinuncia di François Hollande. A ricandidarsi. E quindi va avanti la candidatura del Premier Manuel Valls. Poi il Consiglio di Stato che ha bocciato la riforma delle Popolari. A centropagina gli appalti pilotati di Mafia Capitale. Altri 24 a processo. Le nuove richieste dei PM. Così Buzzi gestiva profughi, rifiuti e verde pubblico. E poi il rapporto del Censis. Oggi nipoti più poveri dei nonni. Andiamo avanti. Il Sole 24 Ore. Il principale quotidiano economico e finanziario italiano. Apre con lo stop del Consiglio di Stato. Alla riforma delle banche popolari. Sospesa in parte la circolare di Via Nazionale sulla trasformazione in S.P.A. parola alla consulta. Sotto esame il recesso per Tesoro e Banca Italia. La riforma non si ferma. E poi troviamo un'altra notizia che riguarda sempre la finanza. Unione Europea continua il minicalo degli NPL. Acronimo che sta per Non Performing Loans. Cioè i crediti deteriorati. Secondo l'Eba nel giugno scorso sono scesi al 5,4% dei prestiti. Erano i 6,5% a fine 2014. Cipro, Grecia, Portogallo e Slovenia le peggiori. Segue l'Italia. E poi troviamo nel taglio alto il cinquantesimo rapporto del Censis. L'Italia del risparmio sommerso. I giovani più poveri dei nonni. E poi la ricostruzione del post terremoto. Imprese e sindaci chiedono una no tax area per rilanciare l'economia. Andiamo avanti. Il Fatto Quotidiano apre con una prima pagina inusuale per la impostazione solita del giornale. Orgogliosi di votare no con i volti dei personaggi che si sono schierati appunto per il no alla riforma costituzionale. Il tempo adesso è finita la campagna degli insulti. Domani si vota. Silvio e Denis ultimo appello. Berlusconi e Verdini scrivono al tempo per convincere gli indecisi. Del Rio se vince il no al referendum. Renzi potrebbe dimettersi. Salvini brogli all'estero. Grillo se perdiamo. Niente drammi. A centropagina. Acquario, nuvole e altri cantieri. La bastonata della Corte dei Conti. Investimenti azzardati. La sprecopoli dell'Eur. Restiamo ovviamente le cronache romane. Nel taglio basso. Lazio Chi, i bu li fate a Keita. Intervista esclusiva al romanista Rudiger che si carica per il derby. Il manifesto. No signore. Il titolo sulla fotografia del premier Matteo Renzi. La campagna referendaria più lunga della storia. Si chiude con i comizi nelle piazze. Le polemiche sul voto degli italiani all'estero. volano cifre sull'affluenza e già si evocano brogli. Grillo a Torino e Renzi alla sua Firenze scoprono fuori tempo massimo i toni bassi. Del Rio allude alle dimissioni del premier in caso di vittoria del no. Poi tira il freno. Il rapporto del Censis poi viene posto in primo piano dal manifesto. Millennials poveri e sanità negata. Ovviamente il riferimento è alla notizia che emerge dai dati del Censis. Cioè che i nipoti saranno più poveri dei loro nonni. Insomma, dai dati è arrivata una conferma del sentiment che si vive quotidianamente. L'unità. Renzi in gioco i prossimi 20 anni. Così titola il quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico. Il segretario del PD davanti a migliaia di persone a Firenze. Rimonta straordinaria. Possiamo farcela. La paura sale. Il fronte del no. D'Alema e Salvini già gridano i brogli e Grillo ordina il Malox. Intanto Pompei inaugura i primi tre chilometri senza barriere architettroniche e altrove. Esperti, tecnici e disabili danno i voti a musei e siti. Resta ancora molto da fare. Nel taglio basso Censis. Sui giovani il conto dell'immobilismo sociale. I figli oggi sono più poveri sia dei padri che dei nonni. Tanti risparmi privati, 114 miliardi. Pochi gli investimenti. Segno di un paese con grossi problemi di fiducia nel futuro. Libero. Aliquota unica al 15%. Tasse Salvini ha ragione. Russia, Ungheria, Polonia. Chi ha adottato un'imposizione IRPEF uguale per tutti i redditi ha visto salire il PIL. Trump e Londra pensano di seguirle. La vuole anche il leader leghista. Tutti lo sfottono ma è l'unica salvezza secondo il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. A centropagina la coscienza dell'assassino presunto non voleva uccidere loro ma le loro sofferenze. Questo per quanto riguarda la sanità e in particolare la notizia di cronaca che ha un po' sconvolto la Lombardia e in particolare Saronno. Andiamo sul giornale. Un grande no per quanto riguarda la prima pagina del giornale. Per non togliere sovranità ai cittadini con un Parlamento di nominati. Per evitare una riforma costituzionale che avvantaggia solo Matteo Renzi. Per non cancellare il federalismo e accentrare tutto il potere a Roma. Perché non vengono tagliati gli sprechi dello Stato centrale. Dunque queste le motivazioni che il giornale pone a supporto del no che caldeggia. Intervista Berlusconi. Facciamo vincere l'Italia. La verità sempre restando nel campo del centrodestra. Questo è il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. Nomine prima del voto. Paura di perdere. Renzi piazza gli amici. Negli ultimi giorni sistemate due pedine importanti. Una ai servizi ma in due anni di governo tutto il giglio magico ha fatto grandi affari. a cominciare dall'azienda di famiglia, da Carrai e dai Boschi. E poi lo spot di Bello Figo. L'immigrato che tifa per il Premier insultando l'Italia. Questa è la fotonotizia. E ancora anche il Consiglio di Stato boccia la madia. Nella riforma della pubblica amministrazione è rilevata assoluta carenza di consultazione e confronto. I giudici si sono espressi in ottobre, però la notizia è stata tenuta nascosta. Il secolo XIX. Referendum scontro finale. Comizi conclusivi tra accuse e contrattacchi. Dopo voto, Fari su Mattarella. Grillo, Paese diviso. Berlusconi evoca Brogli. Soprattutto abbiamo visto per quanto riguarda il voto degli italiani all'estero. Renzi replica. Rimonta a un passo. Domani le elezioni in Austria. Ballottaggio bis. Hofer abbassa i toni. Hofer è il leader della destra ultranazionalista. Che se la vedrà con i verdi. Che prima dell'annullamento degli scorsi ballottaggi avevano vinto le elezioni. Trump sceglie un cane matto per il Pentagono. L'ex Marine Mattis sarà il capo del Pentagono. A centro pagina installata al porto antico l'attrazione turistica di Natale. Genova si fa bella con la maxiruota panoramica che c'è anche a Pescara. Insomma abbastanza un facsimile di quella che si trova al porto di Pescara. Il mattino ovviamente l'apertura riguarda il referendum. Voto all'estero l'ultima lite impennata di schede da fuori Italia. L'opposizione grida i brogli del Rio con il no. Premier al Colle. Renzi siamo sul filo col sì più forti nell'Unione Europea. Grillo rafforzati anche se perdiamo. E poi ci sono le interviste. Berlusconi con questa riforma a noi governo precluso. e Alfano sul Premier voto nel 2018. Non starò mai con Salvini. Mentre nel taglio alto troviamo la Serie A. Dunque il calcio. Il grande ritorno travolta l'Inter dal Napoli. Partita finita 3-0. I partenopei riscoprono il gioco spettacoli. Goli azzurri si riavvicinano alla zona Champions. E Sarri fa debuttare Rogue. E dunque questa è la partita di Serie A. Andiamo sulla gazzetta del Mezzogiorno. Gli italiani al referenzum. Giocando con le parole e con il referendum. Il Premier in poche ore in gioco. 20 anni. Grillo il paese diviso. D'Alema. Ma che rischio stabilità? Alta tensione sul voto all'estero. E poi Taranto. Intesa Riva. Ilva. 1,3 miliardi per il risanamento ambientale. Nel taglio alto i dati 2016 per quanto riguarda il lavoro in Puglia. Bari il lavoro nero sfiora il 60% ed è raddoppiato lo sfruttamento minorile. Dati negativi anche per quanto riguarda l'Italia purtroppo. Non solo il mezzogiorno. Adesso abbiamo un paio di minuti ancora prima di lasciare spazio al meteo e della pausa pubblicitaria. Allora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Iniziamo dalla gazzetta dello sport. Napoli 3 Inter a 0. Dunque c'è sia il risultato che un giudizio sulla stagione soprattutto dell'Inter al San Paolo domina Sarri. Pioli crolla ancora a blackout dei Nerazzurri. La Champions diventa un miraggio. Zelinsky e Amsic due gol nei primi sei minuti. Poi Andanovic salva più volte una squadra senza grinta ed equilibrio. Insigne poi chiude i giochi nel secondo tempo. Nel dettaglio alto il coraggio di Nico Rosberg sorprende il mondo. Ho vinto mi ritiro felice. Il nuovo campione della Mercedes lascia la Formula 1. Troppo stress. Lauda sono deluso. Tutti mi chiamano. E poi il tormentone. Il Milan ai nomi della cordata. CdA il 13. Closing entro febbraio. Atalanta all'assalto del gigante Juventus. I ragazzi terribili di Gasperini stasera all'esame della Juve di Bala. non è convocato. E poi due supermatch alle 13.30 e alle 16.15. Pep Conte chi è Premier. Poi il classico messi contro CR7. Andiamo sul Corriere dello Sport. Riecco il Napoli. Il titolo di apertura. Inter travolta nell'anticipo al San Paolo. Finisce 3-0. Micidiale avvio degli Azzurri. Due gol in cinque minuti. La difesa di Pioli. Ancora una volta in tilt. Nel taglio alto super sabato. C'è Conte che difende il primato contro Guardiola. Nella partita delle 13.30 fra Manchester City e Chelsea. E poi il classico alle 16.15. Barca Real messi sfida Ronaldo in un classico da brividi. E ancora Juventus-Atalanta alle 20.45. Iguain dà l'assalto all'Atalanta dei Miracoli. Andiamo nel taglio basso. Formula 1. Clamoroso annuncio del campione del mondo. Rosberg mi ritiro. Mercedes su Vettel. Il ferrarista può liberarsi con una clausola. Andiamo a vedere anche tutto sport. Iguain infuriato. Il titolo di apertura. Juve-Atalanta. La rabbia dei campioni. Il Pipita a caccia di gol per cancellare veleni e polemiche. I bianconeri cercano immediato riscatto dopo la batosta di Marassi. Mercato accelerata per Caldara. A centropagina la fotonotizia canta Napoli. Ma l'Inter dove è? Zienischi, Amsic e Insigne stroncano i nerazzurri. Finalmente Sarri fa esordire Rog. Nel taglio alto. 110 anni. Auguri Toro. Art, voglie Granata. E poi Salvate Belotti. Na, è il più picchiato. Una punizione su quattro per il Toro nasce dal Gallo. Nel taglio basso. Rosberg che ha detto basta la Formula 1. Ha avuto tutto. E poi l'appello della Idem. Spazio alle donne. La senatrice olimpionica. Lo sport sempre maschiocentrico. Subito riforme per così. Pari opportunità anche nello sport. Ci dobbiamo fermare per dare spazio a Meteo 6 con il nostro meteorologo Luca Mennella. Poi il break pubblicitario. E infine torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Allora eccoci per la seconda parte di Mattino 6. Ben ritrovati. Ripartiamo dalla notizia principale della giornata di ieri. L'omicidio che è avvenuto nel quartiere Fontanelle a Pescara. Prima di andare a vedere i titoli dei giornali andiamo a vedere il servizio con il resoconto di quanto accaduto. Le foto di Jennifer e Davide postate su Facebook solo pochi giorni fa in cui erano insieme felici e sorridenti adesso stridono con la cronaca di un ennesimo femminicidio. Fenomeno che proprio Jennifer la settimana scorsa nella giornata contro la violenza sulle donne condannava su Facebook scrivendo che il virus del non uomo la mancanza di virilità che rende l'uomo un bambino disperato. Parole che suonano premonitrici per una storia il cui copione purtroppo è simile a mille altri. Un litigio alla fine di una storia d'amore che si è trasformato in tragedia. Ed è così che ha perso la vita Jennifer Sterlecchini, 26 anni, uccisa dalle coltellate infertele dall'ex convivente Davide Troilo, 32 anni, titolare di una ditta di manutenzione di ascensori. La ragazza era arrivata nella villetta a due piani di via Quatorbi da quartiere Fontanelle nella tarda mattinata per prendere le ultime cose prima di lasciare l'abitazione. All'interno è scaturita la lite per il possesso di un tablet rivendicato da lui e di un computer reclamato da lei, stando a quanto riferito da Davide Troilo al PM della procura di Pescara, titolare dell'inchiesta Silvia Santoro, nel corso di un drammatico interrogatorio in ospedale, più volte interrotto dal pianto del ragazzo che lucido, ma tremante e dignaro della morte dell'ex fidanzata, ha raccontato la sua versione dei fatti. I due sarebbero finiti a terra dopo le spinte reciproche. A quel punto la giovane avrebbe preso un coltello ferendosi al collo, sostenendo di non farcela più, gesto che sarebbe stato poi emulato dall'ex convivente. Poco dopo, la donna, sempre stando al racconto dell'uomo, gli avrebbe sferrato una coltellata all'addome e l'ex compagno per reazione l'avrebbe colpita prima al collo e poi al corpo. A litigio hanno assistito impotenti anche un'amica della ragazza e la madre della vittima, che l'avevano accompagnata e che erano rimaste fuori dallo stabile. Sono state proprio le urla disperate della mamma ad allertare i vicini, che hanno così chiamato il 112, ma quando i militari sono arrivati insieme ai sanitari del 118 era troppo tardi. Jennifer era già esanime riversa sul pavimento dell'ingresso, con Davide agonizzante per le ferite. Il ragazzo poi è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Pescara, con ferite guaribili in 15 giorni. Nessuno tra i vicini di casa è riuscito a spiegare tanta ferocia. La coppia, infatti, è stata descritta come assolutamente normale. Chi conosce Davide racconta di un ragazzo a posto, dedito al lavoro e molto attaccato al figlio avuto da un'altra donna. Gli amici di Jennifer, invece, la descrivono come una ragazza esuberante, ma assolutamente per bene. Sulla vicenda, intanto, dovrà fare luce l'indagine condotta dai carabinieri del nucleo investigativo della Compagnia di Pescara, diretti dal Maggiore Massimiliano Di Pietro. Nella villetta hanno già effettuato i primi rilievi gli uomini della scientifica e i militari hanno già sequestrato il cellulare di Troilo. Gli inquirenti cercano un perché a quella che a tutti gli effetti è stata una giornata di ordinaria follia. Allora andiamo sui giornali, iniziamo dal centro che dedica ampio spazio a questa notizia. Il delitto di Pescara le vuole lasciarlo, lui la uccide a coltellate. Donna di 26 anni colpita a morte alla gola mentre abbandona la casa. Le ultime parole prima di morire. Mamma, mamma, mi sta ammazzando. Jennifer è la 117esima vittima di violenza in Italia. Era laureata in lingue e lavorava come barista e commessa. Sul suo profilo Facebook aveva scritto degli uomini incapaci di amare se non con le minacce. Lo avete sentito anche nel servizio. Qui viene fatta una ricostruzione tramite vignette di quanto potrebbe essere accaduto con la ragazza che stava mettendo le cose, gli oggetti nella macchina, il suo ex fidanzato che l'ha trascinata dentro casa e poi le coltellate che sono state fatali. Ancora l'arrivo del vicino di casa, Mirko Bottini, che ha cercato di farsi aprire la porta battendo con i pugni. Il tragico destino di una madre sente la figlia morire ma non può aiutarla. Nonna Filomena Jennifer era la luna. E poi il gesto disperato del vicino, scusate, pugna la porta per salvarla. Si precipita nella villetta dopo le grida della mamma che implora aiuto e racconta ai carabinieri uno strazio con il corpo a terra, il dolore degli amici. Vedete proprio la fotografia dell'uomo che sorregge la madre della ragazza uccisa. Ho sentito le grida della madre di Jennifer Proverini dalla strada. È uscito di casa e si è precipitato davanti alla villetta del delitto. Mirko Bottini ha tentato di farsi aprire quella maledetta porta chiusa a chiave prendendola a pugni per salvare la vita a una ragazza di 26 anni. Un tentativo disperato mentre la mamma di Jennifer, Fabiola Bacci, lo pregava di fare qualcosa e di farlo in fretta. Ma quella porta si è aperta troppo tardi quando ormai non c'era più niente da fare. Il centro pone anche in primo piano un articolo con un'esperta in criminologia ma quale amore è un sentimento malato. Scardaccione, criminologa della D'Annunzio, i giovani non accettano di essere lasciati. Così pensano a vendicarsi. Andiamo a leggere anche un estratto di questa intervista. L'amore criminale non esiste, l'amore vero è solo amore e se un uomo ammazza la fidanzata, il suo è un sentimento malato. L'afferma Ermene Gilda Scardaccione, docente di sociologia e criminologia all'Università D'Annunzio di Chiti Pescara. Ma quello che uccide una donna, che uomo è? L'omicidio di Jennifer Sterlecchini, 26 anni, accoltellata a morte dal fidanzato che aveva appena lasciato, è un caso da manuale per una criminologa. Un classico da spiegare agli allievi del corso triennale di sociologia e criminologia al Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali. La professoressa conferma che quello a cui abbiamo assistito è proprio un caso da manuale, purtroppo. Ci sono anche i dati del femminicidio in Italia, con la geografia in percentuali, omicidi che avvengono, come vedete, più al nord. Ma ovviamente sono statistiche che in questi casi, quando si parla di vita umana, lasciano il tempo che trovano. I precedenti, madre e figlia uccise a Pescino, un bilancio drammatico che si aggiorna ogni tre giorni dopo il delitto della pescarese Jennifer. Jennifer, i femminicidi in Italia sono diventati, come abbiamo detto, 117. A destra, i quattro casi che hanno fatto scalpore in Italia. Fatima e Sedan, mamma e figlia freddate a colpi di pistola nel 2013 a Pescina dal padre padrone, avevano 21 e 45 anni. Poi Elisa Paravani, finita accoltellata dall'ex compagno nell'ultimo incontro per Chiarese a Parma, aveva 39 anni. Barbara Fontana, se viziate, uccise in un hotel in provincia di Bologna, aveva 47 anni e poi Sabina, Giuliana e Kiss ha coltellata dal marito violento e poi data le fiamme, è accaduto a Salerno, aveva 29 anni. Il consiglio della polizia, mai accettare l'ultimo appuntamento, l'ispettore capo di Cintio dispensa consigli dal camper della polizia che incontra le vittime. Restiamo sempre su questa notizia, andiamo a vedere anche cosa scrive il messaggero a proposito nelle pagine di Pescara. Quell'urlo disperato, mamma aiuto mi sta uccidendo, la madre di Jennifer non ha messa ad entrare nella villetta per l'ultimo incontro tra gli ex testimoni impotente del delitto. Un ragazzo normale, è un po' la descrizione che è stata fatta dai vicini di casa dell'assassino, lo conosciamo da piccolo, ci sembra tutto impossibile, incredulità nel quartiere. Per lui aveva sacrificato il sogno di un lavoro all'estero, era generosa, parla il miglior amico di Jennifer, avevamo studiato lingue, lui era ossessionato di fronte alla crisi, non accettato di lasciarla andare. Nel taglio basso il carnefice si nasconde in casa, Pescara non fa eccezione, stalking e violenza, l'impennata dei dati preoccupa il centro Ananche, così le aiutiamo a denunciare. E poi uccise a coltellata dall'ex compagno, questa è la cronaca di quanto accaduto nella villetta di Fontanelle. Lunedì la rottura della relazione, ieri la ragazza era tornata per prendere le sue cose, poi la lite fatale. L'assassino ha messo la responsabilità nella vita di lei, l'ombra del suicidio del padre lo scorso anno. E poi nel taglio basso ha iniziato lei, voleva ammazzarsi, poi mi ha colpito. Questa è la versione che abbiamo riportato anche nel servizio, fornita da Davide Troilo, al PM Silvia Santoro, nell'interrogatorio in ospedale. Adesso cambiamo argomento, andiamo avanti con la nostra rassegna, e andiamo sulla pagina Abruzzo del centro, che pone in primo piano il processo Sanitopoli in Cassazione, del turco condannato per induzione in debita. La Cassazione conferma la sentenza d'appello sulla dazione di denaro, la Corte invece annulla e rimanda al nuovo processo, l'associazione ha delinquere. e quindi una condanna confermata in parte per il reato di induzione in debita, quella per Ottaviano del Turco, ex presidente della regione Abruzzo. I giudici della Cassazione hanno confermato, come detto, parte della sentenza d'appello emessa dai magistrati dell'Aquila, rinviando ai giudici di Perugia per un nuovo processo di secondo grado il riesame del reato associativo. E quindi bisognerà rideterminare la pena. La Corte ha confermato le altre imputazioni relative alle pressioni che avrebbe fatto del turco sull'imprenditore della sanità Vincenzo Angelini per ottenere denaro. Il suo legale, l'avvocato Gian Domenico Cagliazza, e le difese degli altri imputati hanno sottolineato come le accusi siano state mosse da un bancarottiere seriale, evidentemente però questa tesi non è stata accolta dai giudici della sesta sezione penale della Cassazione. La condanna per associazione a delinquere è stata annullata con rinvio anche nei confronti di Camillo Cesarrone e Lamberto Quarte. È stato dichiarato inammissibile il ricorso di Perluigi Cosenza contro la prescrizione. Sono state inoltre annullate senza rinvio le condanne per Ennio Marcello Boschetti, Bernardo Mazzocchi e Luigi Conga per via della prescrizione. Sono state annullate le condanne al risarcimento delle parti civili a carico di Sabatino Raco ed è stato rigettato il ricorso di Angelo Burciarelli. Invece rimane aperta tutta la questione relativa ai risarcimento per le parti civili in Regione Abruzzo, le ASL e le cliniche private. Andiamo avanti. Il ministro Calenda Pescara, l'economia cresce ma bisogna investire di più. Questo ha detto il ministro dello sviluppo economico nel corso di un incontro ieri nel palazzo della provincia di Pescara con gli imprenditori. Nel taglio basso la premiazione a Firenze Oscar Coturismo al Parco Gran Sasso della Laga e poi la CICAS nuovi interventi per la Cassa Integrazione e 7 milioni per le politiche attive del lavoro. Andiamo ancora avanti con la lettura del giornale. protesta al d'annunzio la preside blocca l'occupazione del liceo braccio di ferro con gli studenti rimasti fuori dalla scuola siamo stati costretti a riunirci nel Parco Villa de Rizeis. Poi addio a Dora di Giovanni tra le prime donne in polizia e ancora l'asta di beneficenza in vendita a 35 opere per i paesi terremotati. Un esercito di volontari per aiutare i nuovi poveri l'assessore Allegrino svela il piano di interventi per rispondere alla crescente richiesta di assistenza ogni anno 5.200 persone indigenti si rivolgono al comune. Andiamo ancora avanti con le cronache di Pescario uno sciale in legno per far incontrare i detenuti e i loro figli l'iniziativa di telefono azzurro nel carcere di San Donato e il direttore Pettinelli sia permessi a chi si comporta bene. Andiamo sulle pagine di Montesilvano il giallo pezzo pregiato scomparso 25 anni fa questa è l'opera invisibile di Cattelan l'artista montesilvanese Pep Marcheggiani informa i carabinieri di averla ritrovata vicino a un cassonetto dei rifiuti e poi uomo malato derubato dal vicino a Colle Corvino è responsabile a un 47enne incensurato che patteggia 20 mesi nel taglio basso alluvioni 23 risarcimenti in arrivo a 180 mila euro per i danni di un anno fa e del 2013 a cittadini di Montesilvano sulla pagina di Francavilla dell'area metropolitana Sirena Luciani vuole soltanto la demolizione Francavilla è presidente del comitato che si oppone all'abbattimento dell'ala storica del palazzo attacca il sindaco ha dimenticato tutti i progetti alternativi e poi ancora Francavilla cori e concerto di fine anno grande musica per il Natale ad all'anno più servizi ai cittadini con un'app il comune punta su smartphone e tablet per auto promuoversi e poi a spoltore torna la notte del Lupo Mannaro l'arsegna teatrale nel borgo storico tra giochi misteri e vinbrulè andiamo avanti con la lettura del giornale la pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara petizione antimigranti non siamo razzisti Manoppello il vice sindaco Palmisano il capogruppo comunale di maggioranza di Bartolomeo si giustificano su Facebook per quanto riguarda la raccolta di firme dopo la messa e poi il viaggio dell'ingegner di Mercurio da Penne a Chioto dove l'olio d'oliva costa 400 euro al litro è davvero l'oro verde non è solo un modo di dire in questo caso è anche un dato di fatto passiamo adesso sul messaggero andiamo a vedere altre notizie dall'area metropolitana ritorniamo a Pescara incubo corte dei conti per Mascia i giudici contabili tornano a chiedere chiarimenti in comune per il presunto sforamento del patto di stabilità 2013 la giunta ha approvato il dossier di risposta e c'è ottimismo in caso di bocciatura tocca all'ex sindaco rifondere il danno sotto esame lo slittamento di fatturazioni per il servizio rifiuti a gennaio 2014 poi c'è stata attenzione in commissione ok agli assessori scontro invece sul progetto Pescara Porto per quanto riguarda il Natale bus navetta gratis oggi l'esordio per questa iniziativa ancora emisiti il nuovo questore di Pescara carabinieri invece arriva riscaldati a vicendamenti paralleli per polizia e arma di carabinieri successori di Paolo Passamonti dirige attualmente Massa Carrara il nuovo comandante provinciale dei carabinieri invece proviene dalla scuola ufficiale in passato si è occupato di Endrangheta e parliamo del colonnello Marco Riscaldati nel taglio basso un ducce locasciulli al talent letterario brigata maiella in foto e il tango di russo questo per quanto riguarda le iniziative del weekend andiamo rapidamente alle altre notizie dalle altre province l'Aquila fuga di gas scoppia l'incendio inferno alla villa comunale tragedia sfiorata durante i lavori di sostituzione di una condotta traffico in tilt e città paralizzato un operaio in lacrime per lo shock call center pezzo pane una battaglia di civiltà il caso dei 500 posti a rischio è stato dibattuto in commissione poi mezzi antinevi ad accumuli grazie ad una raccolta fondi dunque una notizia di solidarietà nel taglio basso la cronaca rapina le poste sventata dalla direttrice eroe si accorta dei malviventi armati ha subito barricato gli ingressi andiamo alla pagina di Avezzano sul Mona 90enne si schianta contro un tir per Salvatore Vittorio D'Ascanio qui era stata rinnovata da pochi giorni la patente non c'è stato nulla da fare l'incidente lungo la statale 17 a Rocca Casale l'anziano forse tradito dai riflessi del sole non avrebbe visto il mezzo pesante contro cui si è andato a scontrare l'uomo vedovo era solito fare colazione al bar del piccolo centro commerciale ai piedi del paese e poi ad Avezzano altra rapina serale a un distributore picchiato l'addetto a Magliano fugge e abbandona l'amico ferito dopo uno spettacolare incidente appello a Lorenzin sempre d'Avezzano più attenzione per la marsica ieri la visita del ministro della sanità all'ospedale marsicano andiamo adesso sulla pagina di Chieti psichiatria senza borse lavoro malati ai margini della società da mesi senza l'assegno mensile 40 pazienti assistiti dall'ASL caso unico in Abruzzo il sostegno serve a garantire autonomia nella vita quotidiana e poi partorisce in arresto cardiaco e salva colta da infarto e poi sottoposta a cesareo senza anestesia mezz'ora dopo la donna si è risvegliata e ha chiesto del bimbo i tentativi di reanimazione sono stati infine premiati nessun danno cerebrale i medici dicono è un caso anomalo determinante l'utilizzo del defibrillatore una paziente eccezionale ora sta bene e per fortuna aggiungiamo noi banda del buco svaliggiata la gioielleria corraloro notizie che arriva da vasto i banditi sono passati da un locale vicino nuove polemiche sulla sicurezza andiamo sulla pagina di Teramo aprendo le pagine interne della città rischio spopolamento un teramano su tre ha lasciato il capoluogo la paura dopo le scosse i 1300 sfollati e le 5400 verifiche sono ancora da effettuare sindaco preoccupato ufficio sisma informazioni pratiche e gestione delle fasi dell'emergenza sei dipendenti con l'ingegner puritani nessuna polemica di campanile l'ufficio lo meriterebbe il capoluogo per i numeri dei danni e le strutture disponibili poi i lavori alla Noe Lucidi forse riapre il 14 dicembre intanto domani ospiterà due saggi i Monuments Men in azione a Castelbasso le opere d'arte della chiesa ricoverate in Fondazione Menegaz e poi terremoto si rischia la guerra tra condomini con le prime ordinanze di rientro sorprese per l'agibilità differenziata e degli appartamenti nello stesso stabile andiamo ancora avanti ZS Università di Teramo sia la sinergia no al centro di ricerca il ministro Lorenzini in visita a Teramo parla anche di ospedale unico fondi e progetti di ricerca pace fatta la ministra liquida come azione formale ricorso contro la nomina dei vertici dello zoo profilattico e poi barriere architettoniche Pompei accessibile grazie alla Teramana Polisini inaugurati i lavori nel grande sito archeologico con una passerella che rende accessibile gli scavi ai disabili opera appunto di una di una Teramana andiamo avanti il parco rilancia il trenino per i prati di Tivo intanto il presidente scusate Tommaso Navarra ritira l'Oscar dell'ecoturismo per un progetto sui sapori turistici scuole imprese più vicine Confindustria presenta l'iniziativa che si terrà al parco della scienza e poi inaugurato il grande Italia con in piazza con un grande partecipazione per il rilancio di questo storico locale Teramano andiamo in provincia Team Internazionale studia le frane Teramane esperti californiani e neozelandesi entrano in azione a Casa Castina e Cronialeto per la protezione civile Cocaine e Camorra 19 a processo e il giro di droga partiva da Napoli per arrivare sulla costa Viberatiana i numeri nel giro di pochi anni sono stati messi sul mercato locale oltre 25 kg di cocaina noi ci fermiamo qui per quanto riguarda la città adesso andiamo ad aprire di nuovo il quotidiano il centro per passare allo sport andiamo a vedere ovviamente il calcio di Serie A in primo piano la partita fra Pescara e Cagliari in programma domenica Camarata Vai Oddo De Patre vota il pari i doppi ex concordi salvezza possibile ma servono dei rinforzi Sau è l'incubo della difesa bianca-azzurra l'attaccante del Cagliari annunciato in grande forma e l'ultima volta all'Adriatico segnò due reti le scelte di Oddo Ghiombero Fornasier al fianco di Zuparic si va verso una difesa a 4 ma non è da escludere a priori quella a 3 in avanti confermato Pepe dall'inizio forse Caprari e Benali trequartisti andiamo avanti il Napoli ha dato una lezione di calcio all'Inter nella partita di ieri sera finita a 3 a 0 per i Partenopei e chiudiamo la Serie A passiamo alla Lega Pro girone B no fricarica Teramo devi cambiare passo per risalire la china domani mercoledì contro Forlì e Maceratese il tecnico Pescarese da Versa guiderà il Parma invece per quanto riguarda le notizie sulle panchine di Lega Pro e allora andiamo ad ascoltare proprio Nofri è chiaro che giochiamo con due avversari che in questo momento stanno sotto di noi e quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di prendere il massimo dei punti e perché poi il tutto ci darebbe grande fiducia per poter preparare le altre partite questo è un mese secondo me importante perché giochiamo sei gare e a cavallo la fine del giorno di andata e il giorno di ritorno poi ci sarà la sosta quindi dobbiamo veramente cercare di dare l'infa vitale alla classifica e dunque dobbiamo fare delle prestazioni secondo me altissime per ritornare con il massimo della posta in palio ne abbiamo già parlato con la squadra mi auguro che tutto questo possa essere stato recepito nel miglior modo possibile perché ora non possiamo più sbagliare quindi quando giochi con le squadre che sono della tua stessa caratura o inferiori devi cercare nella gran parte dei casi di vincerle e ti devi adoperare come fanno loro perché poi con le squadre come può essere stato il Venezia o la Reggiana è chiaro che c'è un'impostazione mentale già acquisita e un rispetto ancora maggiore però con queste squadre noi dobbiamo cercare di tirare fuori il massimo perché è con loro che dobbiamo sicuramente e abbiamo più possibilità per fare nostra la gara a proposito del Forlì che mi dici è una squadra in ripresa visti gli ultimi risultati sì è una squadra in ripresa è una squadra che in questo momento sicuramente avrà molti entusiasmi ha lasciato l'ultima posizione o meglio ha in coabitazione con il Mantua ma nello sconto diretto ha fatto quattro gol dunque sappiamo benissimo che non sarà facile dobbiamo interpretare la gara in una maniera agonisticamente perfetta caratterialmente dobbiamo essere forti perché poi abbiamo più qualità di loro in certi giocatori ma se non ci imponiamo dal punto di vista della determinazione della corsa dell'aggressività allo stesso livello possiamo complicarci la vita dilettanti adesso Farapenne tre deferiti oltre al club vestino il 19 dicembre davanti alla corte d'appello territoriale dell'Aquila il processo sportivo per illecito atto di accusa verso tre calciatori biancorossi per il finale di partita della penultima giornata di campionato di promozione fece il giro del web un disimpegno sbagliato da un difensore andiamo in serie D il mercato degli abruzzesi il pineto si assicura il bomber palumbo la vastese prende il baby dei cinque blocca marinelli l'Aquila ha in prova Ranelli il Chieti perde il capitano viscido poi il calcio a cinque pescara da spettacole a lunga in vetta netto successo sulla luparense oggi tocca l'acqua e sapona fiumicino l'atrea in B cambia volto andiamo al basket di A2 il derby d'Abruzzo Roseto Chieti anche una sfida tra amici coach di Paolo Antonio contro di Paolo vice di Galli e duello tra allegretti amoroso che si conoscono a memoria la palla a volo di A2 Holt scalda i motori a Ortona l'americano pronto al debutto oggi in campo la serie B palamano 1 maschile città Sant'Angelo c'è la capolista arancionieri all'assalto del Carpi per continuare a sognare il programma del weekend il derby aquilano del rugby forse sarà anticipato al 10 di dicembre rapidamente andiamo a vedere anche la pagina dell'Abruzzo Sport del messaggero ritorniamo in serie A il pescare in attacco pensa Giannetti scusate attendiamo il caricamento di nuovo del messaggero per andare a leggere la pagina dell'Abruzzo Sport che apre appunto con le notizie di mercato in vista appunto della riapertura delle trattative nei campionati professionistici il pescara in attacco pensa Giannetti ma sogna Avenatti in difesa si allontana Bovola Juve dà l'ok per Mandragora Tarpt manda segnali positivi ma intanto è finito in terza serie e poi Oddo resta con il Dubbo Ghiomber ballottaggio tra Aquilani e Benali la notizia ovviamente del Teramo domani a Forlì inizia un mese decisivo per i biancorossi e poi il basket di A2 con il Roseto che prova a recuperare il capitano Fulz e poi la palla a mano la farma più si gioca il futuro in cinque giorni gli angolani oggi ricevono la capolistat Carpi in attesa di recuperare mercoledì la gara esterna con il Romagna queste alcune delle notizie di sport noi ci dobbiamo fermare per quanto riguarda la nostra rassegna stampa mattino 6 dunque termina qui ma tornerà puntuale lunedì alle ore 7 la nostra informazione invece oggi alle 14 alle 19 e alle 23 con il tradizionale TG6 io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana per averci seguito per averci seguito